Sì, grazie Presidente. Prendo la parola in quest'Aula perché voglio fare la mia parte in questo costruzionismo che il Centrodestra Compatto sta facendo per tentare di impedire l'approvazione di questo decreto in sicurezza, cioè della ennesima porcata con la quale questo Governo cerca di far guadagnare miliardi di euro agli scafisti alla tratta degli schiavi del terzo millennio, riempiendo l'Italia e non solo di immigrati clandestini. E vede, io dovrei argomentare le ragioni del nostro no, dovrei entrare nel merito e provare a far finta che quello che si sta svolgendo in quest'Aula sia un confronto tra modi diversi ma entrambi illegittimi di voler governare i flussi migratori. Ma non lo farò, Presidente Fico. Non lo farò banalmente perché non c'è nulla di sensato in quello che state facendo. Non c'è nulla che possa ragionevolmente essere considerato un tentativo di governare un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione irregolare. E la maggioranza lo sa bene. Lo sa nella misura in cui sono anni che tenta di scappare da questo confronto. Chiunque abbia tentato di fare domande banali è stato considerato o tacciato di essere xenofobo, razzista, di non volere guardare il diverso da sé. Eppure, vede, non erano domande difficili, ma la verità è che la sinistra sa che quello che sta accadendo altro non è che figlio di un delirio ideologico. Ed è la risposta migliore a questa domanda, perché la risposta peggiore è che quello che sta accadendo è figlio di una sinistra ormai totalmente prona agli interessi della grande speculazione finanziaria, del grande capitale e di quelli che usano centinaia di migliaia di disperati per produrre un'omologazione nelle società e per rivedere al ribasso i diritti delle persone. Questa è la risposta peggiore. Però, vede, uno pensa sempre che magari si sbaglia. Non mi parevano difficili le domande che abbiamo fatto in questi mesi, ma io capisco che la sinistra abbia un problema a rispondere. Mi rendo conto che sia difficile riuscire a spiegare agli italiani perché mentre ci sono milioni di disperati per a causa dell'emergenza Covid e migliaia di problemi dei quali occuparsi, il Parlamento della Repubblica Italiana non si occupa di quei milioni di italiani che pagano lo stipendio a questi parlamentari e si sta occupando degli immigrati. Mi rendo conto che sia difficile spiegarlo. Mi rendo conto che sia difficile spiegarlo. Perché mentre il contagio corre in tutto il mondo, noi invece di difendere i nostri confini, li spalanchiamo. Mi rendo conto che sia difficile spiegare la ragione per la quale, mentre agli italiani diciamo che verrà impedito il passaggio da una regione all'altra e da un comune all'altro, invece agli immigrati consentiamo il passaggio da una nazione all'altra o da un continente all'altro. Mi rendo conto che sia difficile spiegare. Mi rendo conto che sia difficile spiegare perché per mesi ci hanno detto che il virus non correva sui barconi e quando chiedevamo quali fossero le evidenze scientifiche di queste intelligentissime dichiarazioni ci si diceva che eravamo razzisti. Poi la cronaca ha raccontato un'altra storia, la stessa storia che ha raccontato confermando quello che Fratelli d'Italia dice da anni e cioè che sui barconi, oltre al virus, correva anche il terrorismo islamico internazionale. E guardi, le domande sono moltissime. Mi dia un altro minuto. Per esempio si potrebbe chiedere perché nel decreto rilancio abbiamo speso 30 milioni di euro per fare delle assunzioni che servivano a velocizzare le pratiche di regolarizzazione degli immigrati quando ce ne siamo fregati o ve ne siete fregati se agli italiani dopo cinque mesi non arrivava la cassa integrazione. O perché mentre si impedisce agli italiani di pagare con i soldi contanti togliete la tassa sui money transfer cioè sul trasferimento di soldi contanti all'estero strumento utilizzato dalla criminalità organizzata di straniera. Per esempio dalla maffia nigeriana. Tutte cose che non hanno senso. Poi arriva la collega Boldrini e vado alla conclusione e ci aggiunge degli elementi di grande serietà con il suo emendamento che dice che chi si dichiara omosessuale non può essere più rimpatriato. E vede, io delle domande me le faccio perché vorrei chiedere alla collega Boldrini, punto primo, come si fa a verificare se qualcuno sia o no omosessuale. Perché non fate direttamente un emendamento scrivendo una cosa più semplice. I confini italiani sono aboliti. Chiunque voglia venire in Italia lo può fare senza nasconderci dietro cose che non c'entrano niente. Presidente Figo, non è che lo vedo solo io che da domani noi avremo flotte di barconi battenti bandiera arcobaleno. Non lo vedo solo io. Non ci vuole un genio. Non ci vuole un genio. E non è questa una discriminazione. L'avete letto anche voi gli articoli dei pochi veri omosessuali immigrati che vanno nei circoli degli arci gay e vengono derisi e insultati dai finti omosessuali immigrati. L'avete letto anche voi. E non è una discriminazione verso le donne. Che domani un congolese uomo che si dichiara omosessuale non potrà essere rimpatriato, ma una congolese donna invece potrà essere rimpatriata. E voi sareste quelli che difendono i diritti delle donne. Vergogna! Non ci sono risposte a queste domande, Presidente. Concludo. Non ci sono risposte sensate. Perché l'unica risposta vera è che questa è una maggioranza di pazzi, cinici e irresponsabili. E la storia li giudicherà. La storia vi giudicherà per questo. Grazie.